Benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 10 luglio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Domenica temporalesco nel vostro cielo. Che si sarebbe trattato di una domenica no avreste dovuto saperlo, bastava un'occhiata alle effemeridi, se invece vi tocca scoprirlo vivendo. Rimpiangerete di non aver imparato prima i simboli dei pianeti e dei loro aspetti, vi sareste risparmiati un sacco di contrarietà, proprio quelle che oggi dipingono la giornata nei toni cupi del cielo temporalesco, grigio scuro, viola, giallo zolfo. Sembra proprio una tempesta di Turner. Nel mirino mugugni familiari e un sos di lavoro che vi tocca vostro malgrado, se era l'inizio delle ferie si comincia proprio bene. Come se non bastasse, a contrariarvi anche il sole e mercurio imbronciati in dodicesima casa, solo Giove vi tiene bordone, fiaccato solo un po' dalla quadratura di questi due. Viaggio dunque sì con tanto piacere, ma anche con vari contrattempi da cavalcare finché si può, in caso contrario date forfaito o fate una pennichella sotto l'ombrellone o in albergo. Donna di media età o matura, di carnagioni e capelli chiari, una donna d'affari, benestante, una probabile straniera. Può essere la consultante o un'amica fidata, una consigliera, una collega, una socia in affari. Fiuto e determinazione per i buoni affari, situazione economica e familiare che migliora. Il matrimonio appare solido economicamente e con buone prospettive. Se state pensando di chiedere un prestito o un mutuo, rinviate e rivalutate tutto accuratamente. Questo non è un buon periodo per questo. Il vostro partner è insofferente e sembra voler scappare via, d'altra parte anche voi avvertite un disagio in alcune situazioni. Sarebbe meglio forse ripensare all'intero rapporto. La luna ti renderà brillante e simpatico. Successo in tutto. O quasi. Sarai energico, vitale e più sicuro di te stesso. Non spendere troppo. Riceverete le lusinghe di qualcuno, è sola adulazione. Badate piuttosto a non cedere subito alle lusinghe e guardatevi bene da un'amica che a tutti i costi vuole farsi i fatti vostri. Oggi dedicate un po' di tempo a voi stessi, del resto vi state trascurando troppo e questo non va bene. Potreste sentire l'esigenza di avere degli attimi solo per voi che potrebbero essere speciali. Oggi siate particolarmente diplomatici con colleghi e amici. Usate le parole per portare pace dove sentite che c'è odore di lotta. Giornata piuttosto cupa oggi con alti e bassi dovuti anche a qualche piccolo disturbo. Limitate l'alimentazione e se fumate limitate soprattutto quello. Sostanzialmente oggi sarete in corsa per ritagliarvi un posto adeguato alle vostre capacità. Mettetevi in mostra sul lavoro e godrete dell'ammirazione di molti. Portate pazienza soprattutto nella prima mattinata, non sempre le persone riescono a capirvi e potreste andare incontro a spiacevoli quanto inutili discussioni. Anche se sentite forte il desiderio di cambiare look in questa giornata, cercate di evitare spese eccessive, che possano mettere in pericolo gli sparmi faticosamente accantonati da voi, ma anche dalle persone a voi vicino. Se appartenete alla terza decade, siate particolarmente oculate nella gestione finanziaria. Un figlio che sta attraversando una fase particolare o un partner troppo agitato potrebbero rovinare la tranquillità delle vostre vacanze o il ritorno al quotidiano. Non potete assillare il vostro partner o un amico, con delle scuse per qualcosa che non avete fatto o per un errore che non avete commesso. Vivete una fase di totale trasformazione tanto da non essere più riconosciuti. Con una splendida venere sprigionate un'invidiabile sicurezza in voi stessi, date spazio alla riflessione, parlate e agite sola ragione veduta. Impulsività, testardaggine, intemperanze per cui andavate famosi, sono un lontano ricordo. Giove pure continua a spalleggiarvi con decisione e specialmente se festeggiate il vostro compleanno in questo mese di luglio. Domenica da urlo sotto il tiro incrociato della Luna, Urano e Saturno, tutti quanti contro di voi. Aggiungeteci anche il Sole e Mercurio imbronciati in dodicesima casa. L'unico a tenervi bordone l'amico Giove, dunque il re olimpico degli dei con la sua aquila contro il piccolino furbetto che rubò i buoi al fratello Apollo e in cambio, per farsi perdonare, inventò la lira. Insomma scomodato il mito per dire che la forza di Giove sosterrà voi e terrà a bada Mercurio astuto e paroliere. Per aver più protezione dalle stelle indossate i suoi colori, il porpora e il violetto, e i suoi profumi preferiti, eucalipto e salvia. Amore ed Eros. Ma che amore, questo è il deserto del Gobi, cuore inaridito da esperienze negative. Solo l'amicizia tiene ancora ed è proprio con gli amici che progettate un bel viaggio, fuori tempo rispetto alla massa, voi sovrani del leone non vi uniformate alla folla, volete di più, sempre che l'ondata pandemica non tagli le gambe a tutti quanti, a partire dalle ali degli aerei. Tensioni e aggressività, ecco cosa vi potrebbe causare una terribile emicrania e poca voglia di fare. State vivendo un periodo non ma non potete prendervela con chi vi sta vicino. Il team Sole Mercurio continua a strizzarvi l'occhiolino dal segno amico e buon vicino del cancro, specialmente se siete nati dal 2 al 9 di agosto. Lasciatevi andare alle emozioni più calorose e genuine, che solo voi siete in grado di dare e provare. Se invece siete nati tra il 14 e il 17 di agosto è giunto il momento di farvi travolgere da un amore unico, da assaporare fino in fondo. Lavoro e denaro? Probabile che vi tocchi, perché quando le giornate iniziano male, male proseguono. Nulla di strano se avete un grande affare a casa a risistemare il caos prodotto dai vostri figli che hanno festeggiato la buona riuscita degli esami o se, come capi della vostra impresa, non va data l'agenda settimanale e i vostri riposi sono sempre molto risicati, ma chi molto ha molto deve dare. Più scocciante un turno che non vi aspettavate ma che vi viene chiesto come un favore da un collega o direttamente dai piani alti e a questo punto come dire di no? Anche in piena libertà poca voglia di tutto, dal bricolage, alla cucina, fino alla lettura oggi sono tabula rasa. Per calmare i nervi e ritrovare il baricentro dovreste stare sdraiati al sole o all'ombra, come preferite, a occhi chiusi, mente svuotata e labbra serrate se non per sorbire ogni tanto qualche sorso di acqua fresca. Fate molta attenzione al vostro modo di esprimervi, senza volerlo qualcuno potrebbe ascoltare e rimanere stupito della vostra mancanza di tatto verso un subalterno. Siete giunti a una fase di concretezza, di buon senso, che, nella prima parte della giornata, vi inviterà a essere tutti d'un pezzo nella vostra dimensione lavorativa ed ufficio. E questo costituirà la base di una fortuna che riuscirete a costruire, contando sulle vostre forze migliori, fidando nei vostri talenti, sempre così preziosi, specie se appartenete alla terza decade. Benessere In una giornata mala sortita anche il benessere è un optional, tra tensione nervosa, mal di schiena e i svarioni ormonali sete tutto un programma. Tuttavia, sempre grazie alla protezione del re degli dèi, i problemi si fermano qui, se caracollate o capitombolate ve la cavate con un livido, gli indolenzimenti si superano con un analgesico, salvati in corner dal colpo della strega. Quanto ai fluidi corporei, agli ormoni e alla digestione si possono tenere sotto controllo, più facile selezionando gli ingredienti dei pasti e ridimensionando il piatto. Avete cura dell'aspetto esteriore ma soprattutto interiore. Amministrate la vostra salute proprio come un manager attento e competente. E infatti i risultati sono all'altezza delle aspettative. Per lei, possibile che ogni volta che in casa vostra fate qualcosa di diverso, un pranzo speciale, un cambio di arredamento, le critiche dalle rispettive famiglie vi piovano in testa come un uragano? Soluzione, mandare tutti al diavolo e partire per la vostra vacanza, a rientro si saranno calmati. Per lui, aperto conflitto tra mammina e la suocera, voi nel mezzo a dirigere il traffico come vigile urbano senza paletta. Colore delle emozioni, viola. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6 Attività, 4 Finanze, 6 Beneessere, 5 Grazie per aver guardato l'ideo. Spero di vederti presto.